All'interno della nostra offerta formativa sono presenti, oltre ad un forte potenziamento dell'inglese, una lezione settimanale di educazione musicale, una lezione settimanale di coro ed una di educazione motoria. All'interno della nostra giornata scolastica la maggior parte delle ore sono dedicate alla lingua italiana, ma quel forte potenziamento della lingua inglese prevede la presenza di un'insegnante madrelingua per due ore giornaliere. Il punto dove noi insistiamo tanto è che ognuno di noi ha un dono, un dono voluto e una persona molto amata e questo deve essere al di sopra di qualsiasi cosa. Si cerca di mettere la musica anche come aiuto a quello che è la didattica che le maestre sia l'italiano che l'inglese fanno già sapientemente in maniera molto capillare. Proponiamo una serie di attività che vengono racchiuse in un progetto che si chiama Crescere in Famiglia, che aiuta i genitori anche attraverso delle conferenze ad essere accompagnati nelle tappe di sviluppo dei loro bimbi. Inoltre i nostri insegnanti sono disponibili settimanalmente per dei colloqui e attraverso anche il colloquio giornaliero con il coordinatore didattico è l'intera famiglia che viene accompagnata in un processo di crescita che è non solo del bimbo ma dell'intero nucleo familiare. Quando poi li vengo a riprendere a scuola quasi non vogliono andare via, quindi questo è un ottimo segno. Loro sono i primi che mi danno un feedback molto positivo perché desiderano continuare a stare con i loro amici, mi raccontano quello che hanno fatto durante il giorno, quindi sono soddisfatti loro per primi, quindi io di conseguenza. Per me è fantastico di poter insegnare STEM, che è la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica, ai genitori, perché questo è un tipo di spazio del nostro lavoro, li ha involucati e anche gli ha un buon motivo per usare l'inglese che ci insegniamo. Poter seminare una piccola dose di bellezza in maniera del tutto inconsapevole loro e le loro vite potranno veder germogliare.